Austria-Macedonia termina con un 3-1 per l'Austria, l'Austria vince sulla Macedonia questa partita di europeo del 13 giugno e ottiene ripeto questa straordinaria vittoria. L'Austria gioca bene, gioca molto bene, la Macedonia a mio avviso non riesce a fare grandi azioni, soltanto una o due, tanto che arriva infatti un gol, la segnala per la Macedonia è stato Pantheft al 28 giugno del primo tempo, il secondo tempo tutto da riscrivere, il primo tempo c'è stato anche questo come il gol di Pantheft, il secondo invece un mortoio, secondo la mia opinione. L'Austria invece fa ben tre gol, il primo di Lainer al 18 giugno del primo tempo, poi di Gregorissic al 78 giugno del secondo tempo e poi a firma di Marko Arnautovic all'89 giugno del secondo tempo. Quindi allo scadere del secondo tempo, allo scadere della partita c'è questo terzo ed ultimo gol. Tanti passaggi fatti bene, l'Austria dimostra di avere grande forza, di avere grande carattere, una vittoria straordinariamente bella da vedere, la Macedonia nel nord invece perde i colpi, non ce la fa, nonostante tutto, un solo gol e basta. Secondo tempo tutto da riscrivere, secondo tempo 2 l'Austria ha la meglio e vince in maniera determinata e netta. Iscrivetevi al canale Natale Italiano, attivate la campanella, ci vediamo al prossimo video, una buona serata a voi tutti.